Vi siete mai chiesti perché codice d'onore tiene ancora oggi il pubblico incollato allo schermo? Scopriamo insieme la magia senza tempo di questo thriller giudiziario. Tom Cruise brilla nel ruolo del tenente Daniel Caffee, un avvocato della marina che si ritrova a gestire un caso fuori dal comune. Quella che sembra una semplice difesa si trasforma ben presto in un'appassionata ricerca di giustizia. Vedrete Cruise trasformarsi da pacato negoziatore a implacabile combattente in aula. E come dimenticare il colonnello Jessep, magistralmente interpretato da Jack Nicholson? La sua interpretazione memorabile culmina nella leggendaria scena del processo «Tu non reggi la verità», una frase che ancora oggi fa venire i brividi. Diretto da Rob Reiner, il film combina interpretazioni di alto livello, dialoghi avvincenti e temi come l'onore e il dovere ancora attuali. Non a caso, Codice d'onore rimane un classico del cinema. Se non l'avete ancora visto, cosa aspettate? Immergetevi in questo capolavoro senza tempo e lasciatevi conquistare dalla sua magia.